L'altra notte ho sognato che la luna e il sole splendente insieme ad undici stelle si inchinavano a me. Un film biblico. Figlio mio. Giuseppe, il grande figlio di Giacobbe. Il signore mi apparve in una visione. Mi parlò di te. Un'appassionante vicenda che alterna la corruzione del mondo egiziano al terribile dramma di un uomo diventato schiavo. Padre, e fui venduto dai miei fratelli a un mercante di schiavi. Giuseppe, venduto dai fratelli. Lunedì alle 21.10. Giuseppe, figlio mio.